E' il momento di uscire Presto ci sarà un'altra luna piena, poi avremo finita Mettiamocela tutta, perchè io dubito Mmm, ma certo, come no Quando sarà tutto finito andiamo a festeggiare Sì, certo Quindi ci vediamo tra due mesi, neanche tra uno Vedrai, vedrai Dunque abbiamo Fuka, Yukari e basta per oggi Sono loro due, quindi dobbiamo scegliere chi delle due portare avanti Prima di tutto iniziamo a duplicare un po' le carte nuove A questo punto la carta di Megidolon non ci serve neanche più Ci servono queste due, Diamante e Opale Eh, però la carta di Rigenerazione 3 ci serviva Quindi una la prendiamo Vabbè, abbiamo anche un sacco di Onice Facciamoci un po' di scorta di Omunculus Che quelli non sono mai abbastanza Io direi di iniziare a portare avanti Fuka Che Yukari l'abbiamo già iniziata Lei ancora no Hai da fare Se per caso ti viene fame Ho un po' di tempo libero Andiamo Ottimo Allora mi faresti un favore Magari ti interessa assaggiare il pranzo che ho preparato Essere sincera Non sono molto convinta delle mie doti culinari Ma oggi credo che non sia così male Ho un bruttrissimo presentimento Addirittura Ma ho abbastanza coraggio Allora lo assaggi Ah, d'accordo Grazie Allora vieni con me Sul tetto Ah no, strano Dai Vediamo com'è sta roba Beh non sembra male dall'aspetto eh Però Il bento sembra una cozzaia di ingredienti a caso Beh però Allora aspetta Riguardandolo meglio Non è effettivamente torto Vedo delle arance sopra il riso Vedo delle cose Viola Che effettivamente sembrano prugne In mezzo a delle palline nere Non lo so Magari fuca altre qualità Certo Di solito si sceglie o l'aceto o il limone No 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 La stessa roba Ha un gusto molto forte Come te lo posso dire Ha un sapore terribile Sarò onesto Mi dispiace È quello che hai chiesto Quindi ti do quello che mi chiedi Addirittura Madonna mia sto per crepare Sto per crepare Dopo aver mangiato Fantastico Guarda se anche ti dicevo che era buono La mia reazione ti avrebbe fatto ricredere Sì Sento di essere un po' più in intimità con Fuka Ebbè Un'esperienza di premorte Lei era la papessa Farò Bé in realtà no È un legame che già avevo e che ho solo iniziato ad approfondire come al solito quando creerai le persone dell'arcano papessa quindi rango 1 la tua crescita sarà quella culinaria fuka? credere più in te stessa? si dai accompagnami che se no non mi reggo in piedi ho deciso di tornare al dormitorio anche io secondo me avrà una gastroenterita anche lui come ce l'ho avuta io io in questi giorni oh sei tornato mancano solo 3 giorni assicurati di essere pronto io posso allenarmi quando vuoi allora manca solamente Junpei per avere tutti quanti con le abilità al massimo persino quello morto ce l'ha già al massimo forello e potenziamoci i muscoli HP massimi di 9 niente di eccezionale ma meglio di nulla oh ma guarda un po' chi è che arriva oggi giusto devo andare a prendere le mie ricompense dopo ah invece no si mancano 3 giorni si mancano 3 giorni beh la seconda opzione è quella che ti stavo per suggerire quindi ma tu che potere hai Jin ma non voglio dimenticare voi ma non voglio dimenticare voi io non mi sono sicuro che voi vivrete abbastanza a lungo sai non mi sono sicuro che voi vivrete abbastanza a lungo sai E sappiamo già che la perderete invece Siete due contro un gruppo di ragazzi quindi Provate quanto volete ma credimi non penso sarà una bella idea Ed è già novembre Oggi vi offriamo il set per diventare dei samurai Ascoltate appassionati dell'epoca Sengoku Con questo vi sentirete come un nobile samurai Iniziamo con la miomuramasa È fatta così bene che non sembra neppure una riproduzione Oh sento cielo che meraviglia Ma aspettate non è tutto Ci aggiungo anche una orida samurai Indovinate la quantità a uno Per 39.000 yen Speriamo almeno nell'armatura Non penso tanto l'arma ma almeno l'armatura Ah il vero problema è che però ce la danno Dopo che siamo già entrati al tartaro Che sfiga Eccovi qua Ah sei tu Non vedevo l'ora di parlare di nuovo con te Ottimo allora sono qui per farti compagnia Grazie Resterai grazie di cuore Grazie a te di parlarmi Eh non molto Sì fino a quel punto sì Come tu che mi parli e io che ti ascolto Eh beh certo Non è mica difficile vederlo E pensa di mangiare l'uccellino vero? Nooo Poverello Sembra di puremente Eh me lo immagino eh però Eh ho capito fra però Cerca un attimo di rielaborarla Eh immagino Eh immagino E di questo ne sono felice Kamiki mi sta guardando negli occhi Sento che il nostro rapporto è più rafforzato Arda In realtà la sua non è male come storyline Ne abbiamo vissute di peggio Abbiamo altri tre incontri come minimo Quindi cerca di resistere Chimica Bentornato Rimangono solo due giorni È stato un lungo viaggio ma finalmente siamo arrivati Sì Siamo gli unici che possono batterla Per cui restiamo in di guardia finché non sarà tutto finito Sì ti piacerebbe che è quasi finito vero? Allora andiamoci a prendere le nostre ricompense L'altro giorno hanno trovato la luna delle elementari Ha lasciato questo come ringraziamento Ecco tieni Bambola di feltro C'è anche un'altra cosa Hanno trovato il tizio scomparso Ho provato a fargli delle domande Ma le risposte non avevano senso Come al solito Ecco la ricompensa Segno berserker Ok c'è anche un'altra cosa Hanno trovato la donna scomparso L'ho interrogata ma le cose erano confuse Prendi per voi Anello Oh Vabbè già ce l'abbiamo E quanto facciamo con gli oggetti? 300.000 Poco Ci manca veramente poco Per arrivare ai nostri tanto agognati Un milione Dai Ci siamo arrivati finalmente Un milione di yen Venendo tutta la roba E dai Era importante arrivarci al milione di yen? Assolutamente no Era un obiettivo mio? Certo La bambola di feltro Ripristina pochissime sp ogni turno Chance alta di risposta Ok niente di che La bambola di feltro Allora possiamo decidere di fare due cose oggi O facciamo un altro caffè con Amada Che ho visto che il caffèccio è lente Ci ripristina tutti gli sp Ma non è una cosa sicura che ce lo faccia sempre Vorrei provare Oppure andiamo con Aegis a fare sulle piante Che visto che abbiamo la pianta nuova Magari ci otteniamo anche qualcosa di buono Proverai prima col caffè Amada sembra tranquillo Vediamo il caffè se è eccezionale Abbiamo passato del tempo bevendo del caffè Beh il caffè ha il buon sapore così Caffè eccellente SP ripristinati al massimo Il che Può essere un buon investimento delle nostre serate sai Quando lui è disponibile a fare il caffè Possiamo pensarci Ok Martedì è la giornata Abbiamo ancora un giorno Buongiorno Vabbè domani è il gran giorno Che succede? Sono pronto Non dovrei sorprendermi di vederti così calmo come sempre leader Sono sicura che comparirà l'ultima ombra Ma potrebbero esserci anche gli strega Comunque preparati Esatto oggi essendo lunedì Prima andiamo dal poliziotto Vediamo se ha armi in sconto E poi ci prepariamo al meglio Armi nuove non ne ha Armature nuove non ce ne sono Direi che siamo a posto Ok ho bisogno di una nuova persona degli amanti per Yucari E Rafael non sembra una cattiva idea Io sono Rafael Qua di nuovo errore nella traduzione Il mio potere di pervada Ti pervada Lascia che il mio potere ti pervada Benedicendoti con un cuore e un'anima in salute Il numero di persone ottenute è cresciuto in modo significativo Seguo con immenso piacere la tua crescita costante E quindi abbiamo ottenuto Amplifica debolezza Aumenta di molto il danno colpendo le debolezze Eeeh la madonna ma allora qua Proprio pam pam Speravo in uno sconto Nel comprare le persone Però va bene anche questo E andiamo con Yucari Tanto oggi non abbiamo nulla da fare Una roba rapida rapida E poi che è successo? Che vuoi che sia successo? Ho mangiato la roba che Fuka mi ha preparato E stavo morendo Sento che il nostro rapporto si sta rafforzando Mentre sparliamo alle spalle di Fuka Chiedo scusa per la telecamera scomparsa E lo so Fuka domani finisce tutto Sì come no Mh già Eh sì Mh Cerco di non pensarci io Sì 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 Ma Ma Sì Sì N Review Sì Io ce l'ho da cinque minuti, sono il più bravo di tutti! Puoi tradurre, per favore, Aegis? Oh, Sanada senpai... ...è un po' di due anni fa... Ah... ...Aigis è più lunga... Io ho quasi dormito, quindi... ...l'attività è molto lunga. Ero che ho fatto? Con l'ho fatto quando ha fatto? Sto che... ...la prima della Sanada... Eh? Mi? Allora... ...l'ho stato un uomo... ... ma no... ...che non ho avuto il lavoro... ... ma no? Allora, hai detto come? No, non è tutto. Mi ha poffermato... Oh, finalmente Un po' di backstory, eh? Beh, e cosa facevi? Li lasciavi la morire? Alla vigilia dell'ultima ombra percepisco un quiete ardore tra i miei amici Percepisco un forte legame con loro, quindi livello 6? Già, ma non è ancora finita, ne mancano altre 4 Oh, quindi stanotte salta, eh? Non facciamo nulla Eh, vabbè, è andata così Oh, il pacco, è arrivato prima allora Quindi la spada è per noi e l'auri da samurai sarà per tutti o per solo per noi? Furia alta, è una spada di merda Fantastico Però almeno l'armatura non è male, illusione al taglio ci sta Però quel 10 di fortuna è tanta roba per noi, cavolo E la diamo a Junpei Certo noi dovremmo difenderci un po' di più, eh? Però noi riusciamo a coprirci comunque con le resistenze delle nostre persone E comunque penso che riusciamo ad ucciderli prima del tempo Quel 10 di fortuna, ora come ora, è un bel boost, niente male Quindi stasera nessuno vuole fare nulla Tutte le robe che sono rimaste al computer non ci servono assolutamente più a nulla Farò una cosa che non facciamo da un sacco di tempo allora Andiamo fuori a magnà Ci prendiamo quello che ci aumenta il sapere e andiamo avanti Oh ancora mi dà un fastidio il fatto che sta roba la facciamo dall'inizio del gioco E ancora non ci è aumentato il sapere Tutte le altre due sì, questo no È impossibile, ci deve essere qualcosa che ci blocca Non posso accettare che sia un bug o qualche stronzata simile E oggi c'è la luna piena Oggi però è festa La festa di che cosa? Non ce lo dicono Farò meglio restare a casa e conservare le energie Eh, ho capito, ma che festa è oggi? Perché siamo a casa? È una festa almeno? Ci siamo presi il giorno libero perché è l'ultimo giorno? Ma che bella la sua persona evoluta, eh? Moonlight Bridge Guarda il caso, eh Tanto ci faranno perdere la serata oggi Quanto ci fai? Sì, non come l'ultima volta Ma porca miseria È il momento della battaglia finale L'ultima ombra e gli strega ci attendo Si fa sul serio, devo scegliere la squadra con attenzione Eh, non devo finire a fare il casino dell'altra volta Che avevamo una squadra solamente d'attacco fisico E il nostro nemico era praticamente magico Allora direi che questa squadra non è male, loro tre Però porterei forse al posto di Sanada Koromaru Ragazzi, andiamo Madonna mia, mi ero dimenticato di averti messo sto vestito, scusami Andiamo Va bene, fate attenzione Andiamo Finalmente il momento della battaglia finale Ma prima dovremmo affrontare due potenti avversari sul lato sud del Moonlight Bridge Ma quando mai... Ma quanto ci fai che non è la finale e quello se ne va C'è anche una statua là sotto E questo dovrebbe essere una giustificazione? Sì, ma lo fai solo per il tuo beneficio personale E chi se ne importa? E tu sei solo uno sciocco, Hippie Va bene così? Beh, ti ci faremo ripensare Hai È il momento strega allora Tu che cosa usi? Granate? Sì Vorrei sapere cosa c'è in quella valigetta comunque Takaya Jin Non sappiamo né come attaccano Né a cosa sono deboli o resistenti Però credo che entrambi siano da attacco a distanza Sai cosa ho sbagliato di questa battaglia? Non mi sono portato a distanza Non mi sono portato qualcuno che mi aumentasse con carica Vabbè, ho concentrazione Utilizziamolo almeno Vediamo se la luce fa qualcosa Ne dubito altamente Ok, riflette gli attacchi di luce lui Proviamo i pugni Ok, almeno questi li colpisce E proviamo l'oscurità Dubito che allora se gli ha fatto la luce è anche l'oscurità Ok 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 Ho già capito come funzionano Ok, però lui si spara e la sua persona non è neanche terribile, sai? Carina tra l'altro Ah, povero Ken E povero io anche Perché ho messo l'unica persona che era debole al buio Beh, non è vero Ho anche quel Siegfried che è debole Vabbè, e io vado di Megidolan allora Anzi no, fermati un attimo Prima Dammi tutte le debolezze Ecco fatto Ok, mi riflette il fuoco Lui ma non è resistente alla luce L'entre lui ha entrambi Va benissimo E allora Megidolan Ok, ci sta Tu Decagia Via Tutti i potenziamenti Ops Niente potenziamento per te Mi dispiace Onda di caldo Dai, secondo me Riusciamo a tirarli giù Non ti dico facile Però ce la possiamo fare La sua persona mi piace Molto semplice il concept Però è figa Fanno anche i cambi Ma pensa un po' Meno male che ho io Munculus Madonna mia Eh, ma va Sono una squadra anche loro Anche se da due No, no Non è fortuna È strategia Fra Ah Oh, il brutto presentimento Che l'amico qui Abbiamo un po' Tutti i nostri attacchi E allora Sai che ti dico? Teorgia Chaos Scarlatto Vediamo quanto Gli facciamo Porca Troia Devastati con un colpo Eh, mi spiace Fra Ho creato una persona Eccessivamente Troppo forte Mamma mia È colpa mia Mi dispiace Jin Beh, oddio Guarda che comunque Non giocavate male Eh Vediamo No No, e allora diccelo Così diventeremo consapevoli Dimenticheranno tutto Dimenticheranno tutto Cerchi di sparare ancora qualcuno? Fai pure, è la tua scelta no? Ma sì, tanto finiscono in acqua, voglio dire, non è che crepi Sarà un salto alto, per carità però Finisci in acqua, cioè io capisco la gente che si butta da un ponte Ma ci crepi se ci finisci proprio di testa su un sasso alla fine Se c'è solo l'acqua non succede nulla L'ultima ombra fluttua davanti a noi E ci sono tre statue, io pensavo solo una Non percepisco movimenti Prepariamoci qui, poi andiamo alla battaglia E per prepararci ovviamente Ci facciamo curare Grazie a tutti Grazie a tutti